Girando per il centro storico si possono scovare dei particolari curiosi. Può capitare ad esempio che in una pietra angolare di un vecchio edificio si trovi una faccia scolpita, un volto misterioso che risale a chissà quanti secoli fa. Forse è il caso di andare in biblioteca per cercare qualche altra notizia. E invece no! Questa curiosa opera all'angolo fra via Sarti e via Monsignor Battaglia è stata realizzata pochissimi anni fa. A mettersi qui con martello e scalpello è stato Mauro Mamini Ferrucci, artista faentino, che ha realizzato molti simili anche in altri angoli in giro per l'Europa. È un particolare curioso che in pochissimi avrete notato e ringraziamo Alessandro per avercelo segnalato. Faenza in un minuto!